L'altro fatto di questi giorni, cioè quelle immagini, quelle tensioni, non so se magari poi le possiamo anche recuperare e far vedere sullo sfondo, ma lei a Roma le avrà viste e così, e oggi c'è un'intervista della Ministra dell'Interno Lamorgese che dice attenzione, gli imprenditori non si facciano sfruttare, lo Stato è presente e ci sono state, come dire, attenzione su quella piazza, qualcuno l'ha anche messa insieme a segnali non belli, insomma le minacce al Ministro Speranza, non si possono definire attentati, comunque dei gesti eclatanti, preoccupanti contro l'Istituto di Superiore di Sanità nei giorni scorsi, lei pensa che ci sia una tentazione, un rischio che qualcuno, anche qualche forza politica poi possa offrire assist o cavalcare queste piazze, è un pericolo che vede? Allora, esistono due taglie, chi il 27 del mese ha lo stipendio e non ha problemi, o chi vive nella ZTL, certe cose non le sente, chi invece si trova il cassettino vuoto ha dei problemi maggiori, quindi bisogna capire chi ha questi problemi, chi non fattura e se non fattura non ha lo stipendio, è messo molto peggio, per cui è comprensibile che ci sia tensione dopo più di un anno di chiusure, è comprensibile, vanno date risposte e vanno anche risposte economiche nel breve, ma anche una prospettiva e una programmazione, per quello si dice ok, appena si può si apre, perché bisogna dare una prospettiva a chi se non fattura non ha lo stipendio. Certo, però attenzione a non creare, come dire, attese che poi possono essere frustrate se anticipate troppo, ma era molto chiaro e molto convincente il discorso che lei ha fatto sulle tabelle. Quando le dico che non va bene dire per un mese niente, per due mesi niente, va tutto male, questo crea ansia e crea frustrazione in chi se non fattura non ha lo stipendio. Va data una prospettiva. Una prospettiva, direi per un mese, però poi dopo, che poi era un po' il decreto che avete fatto, era fatto in questo modo, aveva poi la possibilità. E pensi che c'era chi non voleva mettere neanche quell'inciso, se le cose migliorano si apre. Cioè è proprio questione di mentalità. È vero che avete minacciato di non partecipare al Consiglio dei Ministri, se non ci fosse stato comunque di non votare? Sì, si discute, i consigli sono fatti per discutere. E c'è un interventismo molto forte del segretario di Salvini sulla delegazione, queste riunioni che fate, politiche prima, la delegazione leghista. c'è questa dialettica e poi membri della Lega di Governo e segretario? Io sono nella Lega da sempre praticamente, ho iniziato a fare politica nella Lega e sento sempre questa storia qua delle due leghe, ma non esiste completamente. Noi abbiamo una diversità, questa è vera, oggettiva, siamo pendolari e quindi non viviamo nel palazzo, vicino al palazzo. Nel weekend torniamo a casa. Tornando a casa senti come gira l'aria nel mondo reale, non quello del palazzo della ZTL. Per cui hai semplicemente più le antenne sul territorio. Quindi non è Salvini che ha le antenne sul territorio e voi che siete... Ma ce l'abbiamo tutti e poi Salvini è segretario e con chi dobbiamo parlare, se non con il segretario, mi sembra l'ABC. Va bene, allora tutti notano queste differenze, però lei respinge questa rappresentazione anche di una differenza. Se prendi giornali da sempre si dice che ci sono due leghe, invece la Lega è simpaticamente una. E invece dentro il centrodestra con Giorgia Meloni la proposta di abolire il cashback vi ha visto un po' così e poi insomma questo Copasir lo mollate, visto che la legge prevede che vada all'opposizione e quindi Fratelli d'Italia lo rivendica o no?